90 capi che pascolano liberamente per tutto l'anno giorno e notte a 750 metri di altitudine su 150 ettari dei versanti di Capenardo in comune di Davagna. Ad amministrarli tre giovani genovesi, due agronomi e un agrotecnico che nel solco di una pratica sempre più diffusa nel nostro entroterra hanno deciso di costituirsi in cooperativa per tentare la strada difficile dell'agricoltura biologica e della vita all'aria aperta. Il guadagno viene dalla vendita della carne macellata, il latte non raccolto e lasciato al nutrimento dei vitelli. Sul pascolo è tutto naturale, dal foraggio che non conosce con cimi chimici o antiparassitari alla monta e il più contento è lui, Otello, uno splendido toro di quattro anni che pascola beato in mezzo a 50 giovenche. Abbiamo incominciato questa esperienza nel 1998 rilevando una cooperativa già esistente nel 1993 e facciamo appunto questo tipo di allevamento allo stato brado di vacche e limosini. Un lavoro di soddisfazione molto duro, tante ore di lavoro. Ma nonostante questo si pensa ai programmi futuri. Quello innanzitutto a breve termine di entrare a cominciare a fare la selezione genetica sui nostri capi, quindi migliorare sempre di più la razza e il tipo di bese che abbiamo e aumentare il numero di capi, quindi aumentare il numero di vacche e quindi la nostra produzione. La cooperativa ha ormai una clientela consolidata che apprezza la carne di qualità. Sì, abbiamo una clientela sempre in aumento anche perché la nostra produzione è in costante aumento. Cerchiamo di non allargarci troppo per riuscire a mantenere comunque una qualità elevata e infatti diciamo che il nostro cliente cerca innanzitutto un prodotto di qualità, quindi non un prodotto economico, ma un prodotto di qualità, soprattutto un prodotto sano, genuino, in quanto come azienda noi siamo certificati biologici sia come Pascoli che come allevamento. La vendita avviene direttamente per gruppi d'acquisto che prenotano in anticipo quantità e tagli di carne. Noi facciamo vendita di pacchi famiglia da 10 kg, portiamo il prodotto praticamente a domicilio cercando di creare dei gruppi di acquisto per cui una persona si incarica di coordinare due o tre famiglie e noi facciamo la consegna presso quella persona di due o tre pacchi in modo insomma da limitare gli spostamenti in città. La qualità della carne è garantita, basta provare per constatare che un bollito fatto con capi nati e cresciuti all'aria aperta sui Pascoli di Capenardo è profumato e gustoso come quello di una volta. Io direi che è anche meglio di una volta perché una volta le bestie non venivano allevate così allo stato brado tutto l'anno, anzi spesso le bestie erano chiusi in stalla tutto l'anno perché i campi venivano utilizzati per la coltivazione e per lo sfalcio dell'erba e quindi anzi meglio di una volta possiamo dire.